Che è successo a Rimini? Non è stato solo Rimini il problema, era da un po' che questa squadra aveva perso un po' di concetti, di gruppo secondo me perché questi risultati comunque sono troppo pesanti per essere veri, non è dalle qualità che ha questo gruppo quindi è difficile dare una spiegazione a tutto quello che è successo. Come mai ha scelto di mettersi in fare questo gesto? Perché anche per dare un ulteriore scossone a questo gruppo perché diciamo che siamo cresciuti insieme, insieme al mister ed era giusto dare un ulteriore scossone sperando che adesso questo possa far sì che la squadra si riprenda bene. Il mister ha dispiaciuto però la situazione purtroppo è da un po' che andava avanti così, evidentemente questa squadra ha bisogno di altro. Ci dica per chiudere solo cosa l'ha detto la società quando le ha comunicato le sue decisioni, ovvero le dimissioni. No, la società era dispiaciuta però in un momento del genere è normale che devi cercare di riportare la barca in porto e se può essere utile questo mi auguro di sì per il Pescara, per il rapporto che ho avuto con la società e anche per i tifosi penso sia la scelta più giusta sperando che il gruppo possa avere una scossa da questa situazione. Un'altra cosa, quanto ha pesato questo clima avvenenato che c'è? No, ma io non penso il clima, purtroppo è da un po' che il gruppo aveva perso un po' quell'entusiasmo, quella situazione che si era creata prima. Penso anche il problema del mister che non si sapeva se tornasse o non tornasse, ha creato un po' di confusione nei ragazzi e questo ad oggi l'abbiamo pagato in maniera pesante.